Ciao, un nuovo video unboxing di pacco di Natale che abbiamo preso. Abbiamo ordinato il pacco regalo sul sito di Radio Radio Shop, che mio padre è un fan sfegatato, un ascoltatore numero uno, numero uno. Allora, apriamo questo benedetto pacco. Vediamo. Quindi andiamo a vedere se ci hanno andato un'altra parte. Allora, vediamo, vediamo. De giuro mi sta venendo la nausea dei porroni, dei pan e porroni. Andiamo a vedere, ma c'è più roba giallo che da così. Allora, infatti, prima vediamo i famosi confetti al cioccolato delle sorelle Nuzia. Tanti sorelle Nuzia. Non so scherzare, sorelle Nuzia. Ah, sono dell'Aquila. Ok, allora sono contento. Ah, ecco perché loro stanno aiutando le aziende dell'Aquila, dove c'è stato il terremoto, no? Quindi sono contento che comunque noi con questi due pacchi abbiamo aiutato un'azienda dell'Aquila. Non sento, questi sono confetti di cioccolato. Assaggi, però. E adesso va, aprilo tu. Cioccolato fondente, quindi anche più detetico, aprilo tu. Poi sempre il panettone, poi ce ne abbiamo tutti i panettoni. C'è poi mi sono sbagliato perché c'era panettone e pandoro, a questo punto io, subito, volevo dire invece del panettone mandandolo per pandoro. Però non me ne sono in mente. Allora, ecco so, ce ne abbiamo due. Si è aperto sotto. Eh, guardi quant'è tu rugge lì. Poi, c'è uno stravenito. Un altro pacco di confetti. Voglio assaggiare questi colorati. Assaggia con questi. È sempre che la mia dieta si va a far benedire. Io voglio assaggiare questi. No, no, voglio questi. Voglio questi. Lo voglio rosa. È buono. Certo. Certo. Cercando di capire il sapore. Poi, pure questo è buono. Buonissimo. No, buono. Dentro c'è la mandorla. Per cercare di capire il sapore, se no non scherpo più. No, c'hanno un gusto sempre differente. Poi, uno, due, tre, quattro torroni bianchi. Sono alcuni con i pistacchi e alcuni con le noccioline. Vedete? Questi due bianchi con le noci e questi due con i pistacchi. Ci sono quattro e poi due di questi, come quelli che abbiamo preso l'altra volta, a cioccolato. Poi qualcuno lo regaleremo a mio fratello, ai miei fratelli, no? E poi non lo fanno insieme. Eh, aspettiamo dopo. Vabbè, aspetta, faremo tutti così. No, ma non è finito. Ci sono altri due torroni. Torrone... Questo che non so perché... C'è un altro torrone, però non c'è scritto. Torrone bianco. Ah, torrone bianco, anche questo. Sono diversi tipi di torrone. Poi, torrone a cioccolato, al latte, gianduia. Ah, questo questo è buono. Cioccolato al latte, gianduia. Questi a pizza li metti dalla parte iniva di nessuno. Sono tre. Dopo faremo vedere tutti i torroni insieme. E questo... Torrone con frutti di bosco. Anche questo bianco con frutti di bosco. Anche questo mette dalla parte a pizza che lo mangio io. Non lo da nessuno più. Vedete, è fatto così. Quanti torrone sono in tutto fino adesso? Contali un po'? Mi sono... Sono quattro... No, sono cinque, provate. Cinque... E cinque e dieci. Aspetta, mettimeli bene, uno sopra una. Cinque e cinque e dieci. Cinque e cinque e dieci. Un po' napoletano. Un po' napoletano. Un po' napoletano. Un po' napoletano. No, questa è in brusese qua. C'è stato il terremoto lì, no? Lo sai? Loro aiutano le aziende. Ah, è finito. Finito. Comunque siamo contenti. Ci abbiamo torroni a bizzeffo, i regali dei miei fratelli. E quelli buoni mi metto davanti a pizza. Sento. E niente, spero che abbiano tenuto compagnia. Aiutate le aziende italiane, perché questo 2020 è stato una catastrofe per tutti. Però aiutiamo casa nostra. E noi, il nostro piccolo l'abbiamo fatto. Abbiamo aiutato, abbiamo supportato... Abbiamo supportato delle aziende italiane, soprattutto dell'Aquila. Sono contento. E dal boss a me è tutto. Vi salutiamo. E buon Natale. Come va la carta di credito? Leggera. La carta di credito. Va leggera. È più leggera. No. Dai, regalaci una perla di saggezza. I soldi spesi per mangiare sono sempre buoni. Meglio per mangiare cose che per malattia. Vabbè, con noi ci vi faccio nel prossimo video. Ciao. Ciao.